Buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori alla nostra consueta rassegna stampa del mattino Benvenuti, oggi è il 5 di maggio 2016, cominciamo dal Santo del Giorno Vediamolo subito, oggi è San Gottardo, Vescovo, un santo che ha amato molto l'arte Tante opere e tanti monumenti ha fatto realizzare nel corso della sua vita Parliamo di un santo che è morto intorno al 1038 Il sole è sorto alle 5.53, tramontarà alle 20.16 Vediamo il tempo per oggi, avremo un cielo nuvoloso durante le ore notturne Con la copertura in attenuazione durante la mattinata Non si escludono locali e brevi piovaschi durante la notte Probabili nelle zone montane durante le ore più calde della giornata Le temperature sono stazionari, un lieve diminuzione per la giornata di domani Invece il tempo, vedete, migliora, sereno, poco nuvoloso Con sviluppo di nuvole cumuliformi su rilievi durante le ore più calde della giornata Avremo possibili piovaschi pomerigliani nelle zone montane Le temperature sono in aumento Allora, andiamo a leggere adesso i giornali Cominciamo dal resto del Carlino La fotonotizia per l'incidente che ha visto coinvolto Massimiliano Lugli Che si trova ancora in coma per un incidente Adesso c'è l'appello della moglie Che vedete in questo riquadro Con il marito sorridente Poi all'interno del resto del Carlino Questa mattina troverete anche la notizia O meglio Il parere dei cavatori di tartufi Che hanno visto un reality Realizzato qualche mese fa Da Discovery Channel per D-Max Loro dicono Beh, insomma, troppo far west in questo documentario Eccessi sui soldi facili Con il tartufo in questa serie tv Ottimi però gli ascolti Che hanno premiato evidentemente Lo sforzo di questa emittente televisiva Adesso falliscono anche i professionisti Invece richieste in tribunale per le crisi Da sovraindebitamento I dati sono preoccupanti Entriamo dentro il resto del Carlino La pagina di Fano Eccola qua Scogliere Le scogliere a Sassoni Il bagno può attendere Perché? Perché si lavora fino alla fine di giugno Divieto di balneazione davanti a Viale Ruggeri Ieri, e qui vedete la fotografia Ieri c'è stato il sopraluogo Di Sciapichetti Che è l'assessore regionale Qui con il consigliere Minardi E l'assessore Cristian Fanese Comandante della Capitaneria di Porto di Fano Della Guardia Costiera di Fano 285 mila euro La metà del ribasso d'asta Pari a 570 mila euro Sull'appalto da 3 milioni Saranno utilizzati su Fano Sciapichetti e Minardi si sono impegnati A verificare la possibilità di liberare Anche il resto Ancora, guardate questo ragazzo È un ragazzo che frequenta L'Istituto Agrario Cecchi Eccolo qui nella fotografia E qui all'opera Sta potando gli olivi Ha vinto È un campione nazionale Questo studente Un giorno sarà, dice il mio mestiere Ha vinto la gara nazionale Anche addirittura con gli esperti potatori Non solo il migliore tra gli alunni Degli istituti agrari Ma anche nel concorso Come dicevo Con i professionisti E restando sempre in tema di alberi C'è la festa dell'albero a Monbaroccio Monbaroccio che ha un nuovo Questa festa dell'albero Che ha un nuovo logo E anche tante altre cose da proporre Così domani Alla preparazione della festa Che impegnerà il centro storico di Monbaroccio Per tutto il fine settimana Dalle 10 di sabato E ben oltre le 19 di domenica 200 bambini coloreranno Armati di gessetti Il selciato del lungo corso di Monbaroccio Trasformandolo in un grande albero Un albero da Guinness dei primati Dicono Fosso 6 ore Ma si intende muraglia Parliamo dell'ospedale unico Città assente all'ultima iniziativa Serve un cambio di passo Giancarlo Danna detta la strategia Massimo Seri si mette alla testa Di una lotta di popolo Possibile Che è la lista Una lista Possibile a sinistra unita Questi nomi così improbabili Che reali Conseguenza avrà il corteo del 15 di maggio Questa è la domanda Poi tassate anche i disabili No qualcuno pagherà di meno Dice l'assessore Marina Barnesi Botta risposta tra i consiglieri Santorelli e Del Vecchio E l'assessore Festa della Madonna della Colonna Oggi la fiaccolata notturna Alle 20.45 Si parte da Santa Maria Goretti Quartiere di Sant'Orso Fino al santuario di Tre Ponti Animata dai giovani Dell'azione cattolica E domenica 8 maggio È la festa della Madonna della Colonna Andiamo adesso a vedere invece il Corriere Adriati Cominciamo dalla pagina di Fano Che qui finanziate altre scogliere Con il ribasso d'asta Sopraluogo Sassonia Dell'assessore regionale Sciapichetti Il sindaco cita gli elogi di Lega Ambiente La posa delle barriere continuerà Fino alla fine del mese Prima della pausa Nell'area sarà vietata la balneazione Infatti sul Carlino c'era scritto La fine di giugno ma credo che non sia fine giugno Sia fine maggio anche perché poi giugno Di fatto siamo nel pieno Cominciamo a essere nell'estate Quindi non credo che si possa vietare Di fare il bagno in Viale Ruggeri A ottobre partirà il cantiere invece Per prolungare i due scolmatori Fino a 300 metri dalla riva Udc e Progetto Fano All'attacco Costituita la tassa sui disabili Una interrogazione dopo due riunioni del Comune Con gli utenti dei centri riabilitativi Barniesi però smentisce L'assessore dice L'effetto dei parametri ISEE Sotto sempre nella pagina del Corriere di Fano Minardi detta la linea sulla sanità Il PD vota contro la mozione popolare E Pierpaolo invita Seri a cappeggiare l'azione Contro l'ospedale unico E poi c'è questa notizia Che riguarda la cronaca Che poi tra l'altro è andata anche sui media nazionali Ora la miss picchiata è accusata di stalking Qualcuno ricorderà Rosaria Aprea La miss picchiata Fano dall'ex finanziato Violento è diventata un simbolo contro la violenza sulle donne Che è ora accusata di stalking La giovane modella di Maceratta Campania che nel 2013 perse la milza Dopo le botte dell'ex finanziato Ha ricevuto adesso un'ordinanza di divieto Di avvicinamento ai luoghi frequentati da un ex finanziato C'è tutta la vicenda La pagina di Fano si occupa anche Della presa di posizione del Vescovo di Fano Trasarti a proposito dei giochi Dei giochi in generale La vita è fatica Non è fortuna Il Vescovo accusa Assurdo che lo Stato inganni e danneggi i cittadini Monsignor Trasarti testimone della rovina di pensionati e padri di famiglia Domani c'è un convegno E poi ancora alla Colle Marathon 1200 pudisti Domenica c'è la gara da Barchi a Fano Atleti persino da Chattanuga Andiamo adesso sulla pagina di Fano Valle del Cesano Per questa corsa solitaria del candidato a diventare sindaco di Mondavio Un unico aspirante sindaco Si tratta di Mirko Zenobi 31 anni Presenta 12 candidati insieme a lui nella sua lista Per l'assessore uscente Una sola incognita Che alle urne va ad almeno il 50% Dei circa 4.000 mondaviesi Sempre dal Corriere Adriatico Questa volta da Senigallia Fine dell'alerta incendio Guardate anche le fotografie Riaprono così anche le scuole Quattro in particolare che erano situate Ubicate vicino alla Union Cosmetics Che è andata a fuoco l'altra notte Il calore ieri ha fermato il sopralluogo dei Carabinieri Probabile un cortocircuito Il ruo potrebbe essere scaturito dal quadro elettrico Dove erano collegati due muletti in ricarica Sospetti anche sul malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico Nessuna effraziona le porte Dunque si tende ad escludere che il rogo sia doloso Scorribanda invece la bocciofila I ladri fanno danni Torna in azione la banda che prende di mira I distributori automatici di bevande e snack Modesto però il bottino E sempre sul Corriere Adriatico L'altra pagina di Senigallia Ci sono parole molto belle Del ragazzino disabile di 12 anni Rimasto in classe mentre i compagni Pensate sono andati in gita a Pesero La scorsa settimana Questo scolaro ha detto Perdono tutti E ha chiesto al papà di non denunciare Di non sporgere denuncia Il papà dice Ha già sofferto abbastanza Dunque seguirò la sua volontà Il bambino era stato lasciato in aula Perché due pullman avevano la pedana Per i disabili rotta Andiamo adesso invece Soltanto un flash anche per ricordare Che ieri era San Paolino Quindi a Senigallia il patrono C'è stata la processione Così come viene dal 1271 Con il nuovo vescovo chiaramente in testa Allora la pagina di Pesero invece Per quanto riguarda la pagina del Corriere Adriatico Redditività minata Le erogazioni sfumano Restano alla fondazione Cari Pesero 5 milioni per stabilizzare Alla ribasso Solo per un triennio Perciò l'ente ha entrepreso Una serie di iniziative legali Contro la risoluzione di Banca Marche Per quanto riguarda la Camera di Commercio Unica regionale L'assessore Bora accelera Aspetto definitivo entro il 2018 Ma nel frattempo ai vertici ci saranno Michele Di Vita e Alberto Drudi Ancora salvato dal Andiamo a Fossombrone Salvato dal suicidio per la seconda volta Lei lo lascia Lui ritenta di uccidersi Impiccandosi con la cinta della Cappatoio E' stato fermato e salvato dai carabinieri In entrambi i casi Era stato lasciato dalla compagna E sempre per i suoi ripetuti tradimenti Proteggete i campi da basket Da bici e motorini Le strutture all'aperto Siamo sempre a Fossombrone Le strutture all'aperto utilizzate in modo improprio Pezzullo dice Va messo un divieto d'accesso Chiudiamo con il messaggero Andiamo sulla pagina principale Via Branca Prove di rinascita Tre nuovi negozi apriranno nel salotto Buono Pesarese In attesa del colosso del low cost Botteghe storiche hanno lasciato posto a catene franchising Il monito della Conf Commercio A centropagina la fotografia della Pesaro Rovigno Ecco i vincitori Primo Salinigi Seconda Moonshine Terza Angelica Terza Così è stato a Rovigno Così a Pesaro Tra i sindaci Ricci invece Nogarin Sindaco di Pesaro E Filippo Nogarin Sindaco di Livorno Sfida a colpi di tweet Di telefono Di messaggini Il nodo del contendere La questione della responsabilità contabile Sotto A Sottomonte La danza dei Fenicotteri Rosa L'ornitologo Pandolfi dice Spesso è possibile osservarli durante la migrazione Guardate che bella fotografia A due passi da noi Poi ancora Sempre dal messaggero Per chi ha delle obbligazioni Per gli obbligazionisti Della vecchia banca delle marche Ebbene Quattro mesi di tempo per chiedere I risarcimenti Gli obbligazionisti che rispondono A dei requisiti Potranno riavere indietro Non l'intero Ammontare dell'investimento Ma l'80% Del proprio patrimonio Azzerato Iniziale Ancora Il salotto buono Prova a rinascere Sempre sul messaggero Ecco qua La pagina E poi Quella di Fano Avanti tutta per le scogliere Il comune va a caccia di fondi Sassonia Oltre a via Ruggeri Si vuole rinforzare anche l'ex cartodromo Intervento anti-erosione Sopra il luogo dell'assessore regionale Sciapicchetti Ieri Anche qui Il vescovo che dice Stop al gioco d'azzardo E sotto Società Autostrade Alvia Gli espropri Sette chilometri di strade in più Con le opere compensative Per la terza corsia Della 14 Tra l'altro Questa è una notizia Che Potrete leggere anche nel dettaglio Sul Resto del Carlino Con Numeri e cifre I terreni servono per le opere compensative Pensate Che Questa progettazione delle opere accessori Della 14 Ha attraversato diverse amministrazioni Da Carnaroli Passando per le due giunte a Guzzi E trovando dunque il suo compimento Con la giunta a Seri Le opere dovrebbero terminare Prima della fine della legislatura Poi qua ci sono in questo articolo Di Anna Marchetti Tutti i riferimenti Tutte le Le cifre E anche Le proteste Che chiaramente Ci sono da parte Di Coloro Che Si vedono Espropriare Il proprio terreno La rassegna stampa Finisce qui Grazie per averci seguito A domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti